Nella ventennale storia della serie Call of Duty c'è stato un momento in cui la campagna singleplay era seriamente rischiato di sparire, inghiottita dall'enorme popolarità del comparto multigiocatore. Dallo scorso anno però Activision ha applicato un deciso cambio di rotta, scegliendo quindi di puntare i riflettori proprio sulla componente a giocatore singolo, che torna prepotentemente anche in Call of Duty Modern Warfare 3. Armati fino ai denti, noi l'abbiamo portata a termine in attesa della recensione finale, e questo è il nostro verdetto. Ci sarebbe piaciuto inaugurare questa analisi dedicata alla campagna di Call of Duty Modern Warfare 3 parlando di come questa cominci esattamente da dove l'avevamo lasciata nel novembre del 2022. Eppure fin dalle primissime battute la storia presenta una discreta serie di incongruenze, causate per lo più dal fatto che ormai gli sviluppatori hanno la pessima abitudine di portare avanti la linea narrativa del ciclo dei reboot attraverso gli eventi che scandiscono l'alternarsi delle stagioni di Warzone. Se quindi ci eravamo lasciati con il generale Shepard e tutta la Shadow Company guidata da Philip Graves come i principali antagonisti di Price e della sua squadra, le prime missioni delineano invece un contesto in cui entrambi sono tornati a rappresentare dei preziosi alleati per la Task Force 141, impegnata a dare la caccia Vladimir Makarov. E da questo complicato mosaico narrativo si sviluppa forse la più breve campagna di sempre nella storia dei Call of Duty. Poco più di quattro ore di giocato che si esauriscono proprio quando il racconto avrebbe invece tutte le potenzialità per decollare. Tuttavia non è tanto la durata delle 14 missioni a rappresentare il problema più grande, quanto una storia del tutto incapace di ricostruire quel clima di gravità e tensione che in passato avvolgeva il giocatore mentre assisteva impotenti agli orribili delitti compiuti da Makarov. Sprecando quindi tutto il fascino di uno dei villain più iconici nella storia degli Sparatutto, Sledgehammer dipinge un Makarov irriconoscibile, impegnato a organizzare una manciata di attentati improvvisati e apparentemente slegati tra loro che la Task Force 141 sventa senza alcun affanno. Inoltre non c'è un filo conduttore, non c'è Pathos, ma soprattutto manca qualsiasi tipo di pressione sulle spalle del giocatore, che fila verso i titoli di coda senza mai sentirsi sufficientemente coinvolto nella trama. In effetti un paio di missioni capaci di eguagliare l'intensità dei capitoli originali ci sarebbero pure, ma durano davvero pochissimo e non riescono purtroppo ad elevare il bilancio di una campagna dimenticabile sotto tutti i punti di vista. Ma se una trama piatta e inconsistente non fosse già sufficiente, a peggiorare le cose interviene anche la struttura delle missioni. Che questo terzo capitolo della serie reboot fosse stato inizialmente concepito come un DLC e certificato dall'assenza di mappe inedite, ma osservando attentamente le missioni si ha la sensazione che queste fossero state pensate per essere inserite all'interno di una mini campagna, oppure magari pubblicate a cadenza regolare in concomitanza con le stagioni di Warzone. Una possibilità questa che appare alquanto evidente non solo perché quasi la metà dei livelli è stata riciclata dalle mappe del Battle Royale di Activision, ma anche analizzando il design delle missioni di combattimento aperto, ovvero una delle grandi novità di questo capitolo. Nelle intenzioni degli sviluppatori queste avrebbero dovuto espandere considerevolmente la libertà del giocatore nell'approccio a un incarico, offrendogli quindi la possibilità di decidere come affrontarlo in totale autonomia. A conti fatti, nelle missioni di combattimento aperto tutte queste premesse vengono mantenute, sebbene non si abbia minimamente la percezione di trovarsi nella campagna di un Call of Duty. I giocatori vengono infatti inseriti in un'ampia di un'area colma di obiettivi da raggiungere, con lo scopo di recuperare equipaggiamenti, accessori e piastre corazzate scovando le casse nascoste in giro. E se da un lato è innegabile che questa formula regali una libertà senza precedenti, dall'altro non possiamo che riconoscere come le missioni di combattimento aperto non funzionino nell'economia di una campagna single player. Depurate infatti da ogni genere di regia e prive di quell'elemento cinematografico che rende Call of Duty lo sparatutto stellare che conosciamo, rimangono quindi insipide e poco avvincenti per tutta la loro breve durata. Insomma, completata la prima, non farete certo i salti di gioia ogni volta che ne incontrerete un'altra nel corso della campagna. Ma se c'è qualcosa che brilla nel pacchetto proposto da Activision, questo è senza dubbio l'ottimo comparto tecnico. È dal 2019 che abbiamo modo di apprezzare l'impatto visivo raggiunto dai nuovi Modern Warfare, e dal momento che tutta l'infrastruttura tecnica del terzo capitolo si appoggia anch'essa sulla stessa versione dell'IW Engine, ci aspettavamo di incontrare anche stavolta modelli e ambientazioni di altissima qualità, così come un comparto sonoro di ottima fattura. Una nota di merito va poi anche ai progressi raggiunti dall'intelligenza artificiale. In più di un'occasione infatti durante la campagna ci siamo trovati a lodare la furbizia dei nemici, che hanno la costante tendenza a esibirsi in manovre inaspettatamente complesse, anche se non siamo ancora ai livelli di uno sparatutto tattico o simulativo. Bene, e ora tocca a voi. Che opinione vi siete fatti della campagna single player di Call of Duty Modern Warfare 3? L'avete già giocata? E quanto state aspettando il comparto multigiocatore? Diteci la vostra nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale per non perdervi la nostra imminente video recensione. Qui a fianco trovate ora alcuni suggerimenti interessanti. Alla prossima! erano della Inersic. Abbiamo fatto bene.